benvenuti e benvenute sono greenbanship quinto episodio di kelly's caves dunque nell'episodio precedente avevamo trovato una nuova arma che era l'arco pieno di ragni in sto posto che roba è e quando non sono ragni sono slime cioè bella è dicevo avevamo trovato questa nuova arma che è l'arco però abbiamo notato subito che faceva fatica a salire di livello cioè non era come il boomerang che in un attimo ci siamo ritrovati a livello 10 no 10 no ma ci eravamo andati vicini se non ricordo male perché livello 7 8 ora sto provando a far salire di livello anche le altre armi solo che come potete vedere a far salire di livello anche solo il mitra è veramente una sfida anche perché qui ci sono trainer boomeni che lanciano razzi no 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 via 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 ritirata ritirata aspetta un attimo aspetta un attimo bene ma c'è il pipistrello altrimenti ci facciamo del male ok ma questo è rimasto lì no quanti sono beh due di meno aspetta aspetta che c'è il pipistrello ok siamo saliti di livello no gli slime antipatici aspettate è meglio tornare indietro perché altrimenti ci fanno del male per fortuna avevo acquistato la rigenerazione scegli un contenitore il suo contenuto ti aiuterà nel tuo viaggio super mario bros 3 docet ah ma qui posso posso prenderli tutti e tre i forzieri qui è lo stesso non era come super mario bros 3 che se ne poteva scegliere uno solo vabbè bellissimo comunque bellissimo riferimento ecco vedete quel muro secondo me servirà un lanciarazzi per abbatterlo ma andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti come ho fatto a schivarlo da dove sono passato non lo so neanche io capperini un'altra ap dai che forse sale di livello il fucile eccolo lì perbacco bene andiamo avanti eccolo qua hai trovato il lanciarazzi e come avevo predetto grazie al lanciarazzi abbiamo potuto ama un range limitato lanciarazzi adesso siamo ad armi pari e no mi sa che comunque dal punto di vista dell'attacco vince lui no ho svegliato il pipistrello dai oh bene meno male c'è un cucciolo d'orso c'è lo zombie lo zombie lo zombie ahia la torretta l'ape c'è di tutto ok lo zombie è andato questo qui è proprio un osso duro non si riesce mai dai c'è lo slime aspetta aspetta sconfiggilo prima che eccolo lì dai su oh il lanciarazzi è salito livello 2 molto interessante la cosa ok lo zombie è andato ce n'è un altro vedete com'è utile la rigenerazione perché mentre noi combattiamo ed evitiamo i colpi la nostra vita naturalmente si ricarica naturalmente subito dopo uno slime arriva e ci fa del male dai dai comunque ci siamo quasi ma che antipatico ma guardalo boss attenzione boss regina delle api attento perché qui è un osso duro sua maestà aspetta posso sì posso parare i proiettili lanciati dalla regina buono sapersi si l'ho fatto anche un po male devo dire però non sono così efficace con il bazooka più che altro perché vorrei farlo salire di livello ok arma salita di livello benissimo la regina è in difficoltà eh bazooka è salito a livello 3 bene bene dobbiamo solo continuare ad attaccare bene bene l'abbiamo sconfitta dai è andata è andata abbiamo sconfitto la regina delle api qui cosa c'è un altro tipo di muro quindi servirà un'altra arma il balor c'è il balor servirà un'arma apposita per poter superare quella barriera herbert amico mio vai vai colpisci il balor colpiscilo immaginavo ci fosse qualcosa o qualcuno e infatti e infatti c'è un altro balor aspetta riesco con l'arco sì diciamo che potrei farlo salire di livello anche bene salito di livello che roba è ah così proprio vabbè ragazzi allora sapete cosa vi dico direi che per oggi il video termina qui la prossima volta riprendiamo proprio da questo punto grazie per avermi seguito spero vi siate divertiti iscrivetevi al canale mettetemi un bel mi piace commentate e condividete andate a fare un giurietto sui social link in basso in descrizione se non volete perdervi nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi e noi ci vediamo più avanti con nuovi video buon proseguimento a tutti